un saluto a tutti da GID e benvenuti sul canale gennaio 2024 come sappiamo dal primo di questo mese sono entrate in vigore per i droni le classi in conseguenza in questo video andiamo a parlare della C0 che è una delle più chiacchierate innanzitutto qual è la caratteristica principale di un drone C0 il peso quindi parliamo di droni al di sotto di 250 grammi ma non è tutto qua e andiamo a vedere di fare un po di chiarezza proprio su queste situazioni parliamo quindi di un drone C0 uscito recentissimamente e cioè del mini 4 pro un drone che esce già marcato dalla casa come C0 anche se uscito nel 2023 però è un C0 a tutti gli effetti cosa posso fare con questo drone premetto che tutti gli esempi che farò in queste domande che seguiranno sono soggetti ovviamente alle normative quindi se parliamo di persone se parliamo di città dobbiamo essere ben consapevoli che parliamo di zone e di situazioni ben delineate e comunque approvate sia dalle mappe di flight che dal buon senso partiamo quindi con la prima domanda un C0 posso pilotarlo senza patentino e la risposta è sì posso pilotare questo drone in città la risposta continua a essere sì posso pilotare questo drone sorvolando delle persone non informate non assembramenti ovviamente e la risposta continua ad essere sì ma posso con questo drone allontanarmi dal punto di decollo verso l'alto più di 120 metri e la risposta in questo caso diventa no e questo è un blocco imposto dal software stesso dei droni C0 marcati a questo punto esiste un escamotage far passare il mio drone da C0 a C1 lo posso fare con una richiesta direttamente a DJI e retromarcare il mio drone quindi portarlo su di classe alla classe C1 vediamo le stesse domande in C1 posso pilotare questo stesso drone senza patentino la risposta diventa no devo avere l'attestato di volo A1 A3 posso pilotare questo drone in città la risposta è sì posso pilotare questo stesso drone al di sopra di persone non informate la risposta in questo caso è no posso pilotare questo drone e portarlo al di sopra dei 120 metri dal punto di decollo non dal suolo ovviamente ma dal punto di decollo la risposta è sì ma passiamo a questa ultima situazione dove noi siamo in possesso di un drone prodotto e venduto in data antecedente al gennaio 2024 prendiamo per esempio un mini 3 pro o anche un mini 3 semplice che diventa a tutti gli effetti un C0 di fatto perché la casa stessa ha dichiarato l'Mtom al di sotto dei 250 grammi ed ecco che anche in questo caso poniamo le quattro domande precedenti posso pilotare questo drone senza patentino la risposta è sì posso pilotare questo drone in città yes posso pilotare questo drone al di sopra di persone non informate la risposta è sempre sì ma attenzione anche all'ultima domanda posso portare questo drone perché il software non me lo vieta al di sopra dei 120 metri dal punto di decollo la risposta anche in questo caso diventa sì ed ecco quindi che in questa disamina abbiamo trovato la classe privilegiata e cioè la C0 di fatto molto bene eccoci alla fine di questo video io vi ringrazio se terrete in considerazione l'ipotesi di iscrivervi al mio canale o se lascerete anche solo un like e buoni voli a tutti ma soprattutto a chi è un fortunato possessore di un mini 3 e un mini 3 pro perché potrà continuare ovviamente ad usarlo come ha fatto finora ma avendo come abbiamo visto delle possibilità in più di chi acquista adesso un C0 effettivo oppure vuole retromarcarlo e farlo diventare un C1 un saluto a tutti da GID e al prossimo video